ragazzi buongiorno e bentornati o benvenuti per la prima volta sul mio canale volevo registrare questa piccola clip, questa breve clip per rispondere ad alcune persone alcune me l'hanno commentato in pubblico, alcune me l'hanno scritto in privato alcune me l'hanno lasciato intendere è un messaggio che è difficile trovare le parole giuste però cercate di capire il concetto e anche la situazione, la posizione in cui noi youtuber e comunque creatori di contenuti perché il content creator altro non è che chiunque di noi anche di voi, si mette davanti una videocamera e crea un qualcosa per mandare poi online che potrebbe essere un unboxing, una recensione, un test, una prova, un blogger, una vita quotidiana un qualsiasi cosa, un viaggio allora io ho ricevuto alcuni commenti dicendomi ma sai sarebbe il caso ben buon per te se riparti, anzi sarebbe meglio per te se riparti subito con il camper altrimenti perderai molti iscritti allora ragazzi partiamo da un presupposto io non devo fare qualcosa per mantenere gli iscritti incollati al mio canale io penso che quando si decide di seguire un canale lo si fa per la curiosità e per il modo di fare o di esprimersi del creator cioè mi spiego se io seguo Tizio e Caglio lo seguo a prescindere dal camper faccio un esempio per rimanere in tema non credo che un iscritto al canale nato straniero quando è nato straniero, quando Lorenzo ha subito l'incidente è stato mesi e mesi senza camper non penso che un iscritto sia stato spinto ad andarsene dal canale perché? perché una volta che io mi iscrivo ad un canale una volta che io seguo una persona entro un po' in simbiosi voglio vedere cosa fa, cosa non fa poi siccome non si paga un abbonamento l'iscrivermi o il disiscrivermi sì, sono libero di farlo per l'amor di Dio ma non mi comporta nulla né problemi né incombenze quindi non vedo il nesso, il discorso, il filologico dov'è poi se a te interessa solo ciò che succede all'interno del mio camper allora quello ha un altro par di maniche però, c'è anche un però da quando io ho venduto il camper ad oggi ho notato un impennaggio un impennamento ma enorme, ma incredibile non si sa sono esplosi come funghi canali di camperisti neocamperisti o ex camperisti tornati ad essere camperisti tutto questo mi fa piacere sì tutti i canali sono belli da vedere nì allora, io ragazzi non sono una persona molto statica nel senso, voi avete notato anche quando io andavo in giro con il camper la mattina arrivavo in una spiaggia e magari il pomeriggio me ne andavo in un'altra io sono fatto così ragazzi io veramente sono nomade non riesco a stare fermo e quindi per me che aprono 40 canali e tutte e 40 i canali camper usato cosa andiamo a controllare? camper quanto costa la manutenzione? camper come sostituire? ragazzi ma ci stanno 8700 video sull'argomento ma io oggi se me lo metto a dicembre 2020 a spiegare come se cambia la bombola o come se monta un pannello solare ma anche no ma anche no non ha senso e non è utile a nessuno perché? perché già ci sono se voi fate caso i miei video sul canale specialmente anche erano rivolti a un mio passatempo a una mia gitarella io faccio vedere il vlog io faccio vedere la mia vita spezzone ovviamente e metto tutti quanti davanti a una finestra se vado al mare se vado in montagna se incontro gli amici se bidi bip e anche nelle mie scelte extra camper le videocamere i cani le gite il lavoro i pranzi gli amici il biliardo quando non sto bene di salute cioè questo è un qualche cosa che non può essere copia in colla ossia vediamo oggi che ha combinato tizio Cagli e Sempronio ma se io devo vedere 8500 video tutti uguali ragazzi a me mi passa pure la voglia di rifare video sul camper allora se tu mi fai vedere come hai camperizzato il tuo furgone come hai rifatto gli interni del tuo camper quello non so copia in colla è vero l'hanno fatto tanti altri ma ognuno l'ha fatto a modo suo quindi non è un copia in colla se tu mi fai vedere come si monta un pannello solare i pannelli solari si montano tutti alla stessa maniera io ho un video fatto di quando tiravo con l'arco alcuni video che ho fatto sul mio compound semplicemente perché in lingua italiana non esisteva neanche un video i video sugli archi compound sono tutti in inglese ad oggi ancora persone mi scrivono in privato mi mandano le mail per quel video ma ce n'è uno solo fatto da me nessun altro youtube ha fatto video su quei compound se ce ne fossero 100 io capisco voglio vedere come hai fatto tu gli interni del tuo camper perché l'hai fatto in maniera tua personale e sicuramente sono diversi da come l'ho fatto io da come l'ha fatto il dizio cagliassembroni quindi dire ma se non riparti subito col camper ragazzi se va avanti così come penso che vada avanti così per quest'anno camper io non ne compro non ne compro perché per me è impensabile è proprio fuori da tutti i canoni di ragionamento che un camper che dovrebbe valere 500 euro vengono chiesti 2.000 2.500 3.000 euro camper dell'82 83 84 valore di mercato zero sembra che stanno vendendo l'oro allora è un vostro modo di sognare alla paperon dei paperoni ma non è il mio modo di vedere le cose io è vero posso dare un valore affettivo a una cosa posso dare un valore ad una cosa tecnologica perché se io compro un telefonino lo metto sullo scaffale non c'ha neanche un minuto di telefonata non è stato mai utilizzato si vede condizioni per al nuovo un veicolo di 40 anni ragazzi boi o non boi ha piovuto l'umidità ha fatto l'umidità il ghiaccio ha ghiacciato il ferro si è arrugginito il peso ha schiacciato le balestre riesco a rinnovare ragazzi potete raccontare tutte le barzellette che volete mezzo di 40 anni c'ha 40 anni valore commerciale tra i 0 e i 500 euro i mezzi infiltrati perché io vedo vedo veicoli infiltrati dichiaratamente infiltrati venduti a 1.000 2.000 euro ma che siete matti allora se voi pensate voi che pensate che io debba ripartire subito col camper pensate che io per far vedere sul canale come ricostruisco il mio camper me lo metto sotto a una ghigliottina di quelle e tagliarmi la testa da solo spendendo 2-3.000 euro per un camper da ricostruire di sana pianta che alla fine mi costerà 6.000 7.000 euro e poi vale 3.000 a me mi dispiace per voi e mi dispiace se vi volete iscrivervi al canale ma siete liberi di farlo perché io per far contento qualcuno di voi non vado sotto a un mattone non vado sotto a una ghigliottina perché è solo da pazzi pensare che io per far contento qualcuno del canale vado a comprare un camper che vale 0 pago 3.000 poi alla fine dei lavori mi esce 6-7.000 perché poi una volta rifatto tutto quanto e lo vado a rivende vale 3.000 una volta rifatto vale 3.000 quindi mi dispiace se qualcuno di voi e spero che siate pochi perché evidentemente se voi mi dite queste cose se voi mi mandate questi messaggi ho sbagliato qualcosa io pensavo di aver creato una community diversa e non finalizzata al camper perché ragazzi manco manco non voglio fare manco nomi ma sono pochi ormai i vecchi canali di camperisti che continuano a martellare sul camper sono diventati tutti dei vlogger perché comunque sia il discorso camper alla lunga alla lunga alla lunga rompe i coglioni sì perché il camper poi alla fine rompe i coglioni perché vedemme mille volte mille volte lo stesso video che è la moca e quello e quell'altro e fammo colazione e mettiamo la bombole e ripariamo il boiler e giriamo il frigorifero e mettiamo le ventole e cambiamo il pannello e basta ma mica potevamo andare avanti nella vita a vedere sti video è come se domani vado a vedermi in firma e mo ripeto 25 volte ma la storia è sempre quella metti il pannello con gli ombi i fili i metti nel regolatore e i metti sotto carica la batteria ha finito ah regà ha finito la trama è quella compri il pannello metti il pannello metti la batteria il GM ha finito la trama l'ho raccontata il firma è quello alla fine vissero tutti felici e contenti speriamo ma è quello preferisco il vlog preferisco fatte vedere che mi sono comprato una copro 8 come la uso perché la uso mo vado a fare un volo cordrone qua perché sto qui per sto motivo quindi visto che sto qui per sto motivo mo faccio un voletto cordrone poi domani poi domani che ne so in cui cazzo sto non lo so sto qua in macchina sto col furgone sto qua in bicicletta sto a piedi vado col treno vado qua aereo non lo so non lo so io sono un blogger il blogger è il blog è un diario è un videodiario il diario è quello che tu da ragazzino aprivi e scrivevi oggi mi è successo questo questo quello è il diario e si chiama in termini tecnico blog il blog è un videodiario quindi quando voi trovate un blogger cioè me cioè il nato straniero cioè chi prepara a voi per dire nati liberi chiunque vuoi sto rimanendo nell'ambito dei camper il blogger è chi vi fa vedere giornalmente cosa combina vi fa vedere vi fa leggere il suo diario se volevo far vedere solo camper andavo a far meccanico no? e mi dispiace di aver visto queste cose perché pensavo di aver creato una community diversa e vabbè comunque buona vita a chi se ne va e grazie a chi resta ciao